Arte con Casnews, Maurizio Cattelan denunciato dal suo scultore. Lo scultore francese Daniel Drouet, a suo dire autore delle nove statue alla base delle opere più celebri di Maurizio Cattelan, ha intentato una causa per ottenere un risarcimento di ben 5 milioni di euro. Questa la richiesta al Tribunale di Parigi contro l'artista ed il suo gallerista parigino, Emanuele Perottin e la Monet de Paris, che nel 2016 ospitò la mostra dell'artista italiano Not Afraid of Love. Drouet non accetta più che il suo nome non compaia tra i crediti e cataloghi di opere realizzate dalla sua bottega, come la Nonahora del 1999 o In del 2001, quest'ultima battuta in asta nel 2016 per oltre 17 milioni di euro. Drouet, invece, è stato pagato in media 33 mila euro a statua e il suo nome non è mai emerso adeguatamente secondo il suo parere, come ha raccontato a Le Monde, in cui ha confidato che anche le indicazioni per la realizzazione dell'opera erano scarse e imprecise. Presto, il risponso del Tribunale.